Benvenuti e bentornati cari ascoltatori di Radio Puggini On Air. Oggi vi portiamo notizie emozionanti dal mondo della musica. L'artista milanese, il talentuoso rapper Gali, sta per farci immergere in un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera musicale, con l'uscita imminente del suo quarto album in studio. L'attesa è alle stelle con i fan di Gali in fibrillazione, soprattutto dopo che il suo profilo Instagram è stato misteriosamente svuotato di ogni contenuto. Un video rilasciato dalla sua etichetta discografica, la Store Records, sembrava essere un annuncio velato, facendo presagire l'arrivo di qualcosa di grande. E non siamo rimasti delusi, solo poche ore fa una foto pubblicata su Instagram ha svelato il titolo del nuovo album, Pizza Kebab, volume 1. Un titolo che già promette un mix di sapori musicali unico e irresistibile. E la data d'uscita è fissata per venerdì, venerdì primo dicembre. Quindi segnatevi questa data nei vostri calendari, perché Gali sta per regalarci un viaggio sonoro straordinario, di cui ora parleremo. Ma vi ricordo anche che venerdì prossimo esce il mio nuovo singolo, A Quattro Zampe. Vi invito ad ascoltare anche i singoli usciti, i tre singoli negli ultimi due mesi che anticipano il mio nuovo album, La prima goccia di pioggia, in uscita il 29 marzo del 2024. Ristiamo ascoltando le nuove canzoni una ad una, un po' alla volta, e venerdì esce A Quattro Zampe. Vi aspetto anche per questo. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, perché molti di voi sono spettatori di ritorno. Per noi è molto importante se voi vi iscrivete e rimaniamo in contatto. Ma continuiamo a parlare di Gali. Questo nuovo album segna il ritorno di Gali dopo il successo di Sensazione Ultra, pubblicato nel 2022. Sarà il suo quarto album in studio, un altro tassello prezioso nel muro discografico che il rapper milanese sta costruendo con passione ed edizione. Il team dell'etichetta discografica Sto Records ha condiviso un video che anticipa il grande evento. In questo breve filmato vediamo Gali, in un momento di intensa concentrazione, forse mentre ascolta uno dei brani del nuovo album. La caption che accompagna il video è un messaggio carico di gratitudine e ammirazione nei confronti dell'artista, evidenziando il duro lavoro e la passione che Gali ha messo in questo progetto. Siamo entusiasti di vedere come Pizza Kebab Volume 1 sorprenderà e delizierà i fan di Gali e tutti gli appassionati di musica italiana. Restate sintonizzati su Radio Puggini On Air per tutte le ultime notizie su Gali e per scoprire in anteprima le anticipazioni su questo attesissimo album. Poi ci riascoltiamo venerdì e commenteremo insieme questo nuovo singolo. Aspetto sempre i vostri commenti, i vostri feedback e stavolta anche sul mio nuovo singolo a quattro zampe, ve lo ricordo. Quindi ci risentiamo venerdì. Grazie per essere stati con noi oggi e continuate a seguire Radio Puggini On Air per altre emozionanti novità dal mondo della musica italiana. Gali Pizza Kebab Volume 1 in arrivo il primo dicembre. Non perdetelo!